Almeno fammi accendere! Ma no! Ma no! Ma no così! No, non è possibile! Non è possibile! Nooo! Non mi piace! La devi te eh! Io non so, perché non gli date tanto! Ma no! Ma perché no? Cazzo è come il sasso quello la eh! Ta! Oh! È uguale al sasso eh! Ma ho capito ma è il modo cazzo! È il modo! Il modo! Tocchi il davanti e poi la tiri su! Tocchi il davanti appena appena poi la carichi! Va di là da solo la moto! Non arriva lì! Carichi giù! E la moto già si alza! No! Alza e tocca davanti! Intanto la schiacci e salti fuori! Ma basta che la alzi! Dai il gas appena appena! Ma poi Eisia elettone! e tocca il gasонь su! Ma, lo devi fare! Oh! In due tempi! Alzi! E poi salti fuori! Devi avere la convinzione di saltare fuori lungo! E basta!